Musica Musica Cercheremo di dare un servizio crescente sia tramite la nostra rete dei portalettere che sarà supportata sempre di più dall'attività crescente nel mondo dei pacchi e che gli uffici postali rimangano un punto di riferimento in tutte le realtà territoriali del paese. Considero il fatto che l'età media dei nostri dipendenti sia alto e quindi che ci sia un turnover naturale o leggermente accompagnato, una grande opportunità per l'azienda per poter assumere e permettere quindi una maggiore dinamicità in settori che oggi sono in grande crescita. Questo piano considera la punta di diamante i nostri clienti e la fiducia che i nostri clienti hanno e vogliamo abbiano in maniera crescente imposte italiane. Autore dei sottotisciati Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.